Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Diverse le notizie di oggi a partire dal Premier Draghi che ha definito un po' la roadmap delle riaperture delle prossime settimane, ne parleremo anche noi, ovviamente calate sul ferrarese, ma a proposito di governo il Ministro del Turismo sarà domenica a Ferrara per incontrare l'amministrazione comunale e sarà un'occasione anche per parlare di rilancio, ma in questa edizione parleremo ovviamente anche di coronavirus e di diverse tematiche legate alla pandemia, ma partiamo da quella che l'amministrazione Stense ha definito una svolta storica, diciamo così, per la circolazione in centro a Ferrara in zona ZTL. Dal prossimo mese parte il nuovo regolamento per l'accesso e ci sono già diverse novità importanti. Questa mattina la presentazione alla stampa, ma sentiamo. Meno auto in corso martiri della libertà, ma anche una circolazione più controllata in corso Ercole I d'Este, oltre a un sistema più agile per ottenere e rinnovare i permessi ZTL per disabili a Ferrara. Questi alcuni dei punti principali del nuovo regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli in ZTL, diverse le criticità segnalate in questi mesi, in particolare in pieno centro storico dove circolavano troppe auto. Con l'accensione attesa da un anno e mezzo delle telecamere ai varchi di Torre della Vittoria e dei 4S, il sistema Musa dovrebbe disincentivare il traffico di attraversamento. Con il nuovo regolamento, che sarà attivo dal 3 maggio, se il Consiglio Comunale darà al via libera, le multe in corso martiri della libertà partirebbero da giugno dopo un mese di sperimentazione. Dopo 10 anni entriamo nella nuova fase, un nuovo regolamento che avevamo promesso, un nuovo regolamento che va nella direzione di ridurre drasticamente il traffico in centro, in Ercole I d'Este e in tutto il centro storico. Un nuovo regolamento che avevo promesso e che andremo ad applicare con il Consiglio Comunale a breve, proprio per pochi giorni, e che va proprio in questa direzione, in quella dell'ascolto dei cittadini ferreresi che giustamente lamentavano questa criticità ma che ovviamente veniva da un regolamento non proprio corretto per ridurre il traffico in centro storico. Un centro storico con poche auto o chiuso va nelle direzioni delle grandi città per l'incentivo al turismo, per l'acquisto dei negozi, per la rivalutazione di tutto il commercio e del turismo. Faccio mio l'appello delle guide turistiche che chiedevano sensibilità importante per la chiusura del centro storico e così arriveremo in quella direzione. Ma più in generale il nuovo regolamento porta con sé un nuovo software che permetterà di acquisire online permessi ZTL e disabili senza recarsi negli uffici di Viale 4 Novembre. Come detto in conferenza, le tariffe saranno leggermente aumentate rispetto a ora e si vuole rendere più costose le fasce orarie dove si registra maggiore traffico. Passiamo alla cronaca. Adesso ricoverato all'ospedale di Kona aggredisce e picchia gli operatori sanitari e quanto sarebbe successo la mattina di domenica scorsa, l'11 aprile, intervenuti i carabinieri della stazione di Baura. L'uomo, un 48enne di origine pakistana, avrebbe aggredito, secondo i militari, senza ragione, avrebbe aggredito un infermiere e due operatori sociosanitari che stavano prestando servizio a pronto soccorso. Il paziente è stato denunciato per lesioni personali e per cosse. E ora parliamo appunto della conferenza stampa pomeridiana del premier Mario Draghi. Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia, ha detto e ha annunciato diverse novità come l'ok all'apertura serale di ristoranti all'aperto dal 26 aprile, ma anche l'introduzione della zona gialla rafforzata in anticipo sempre il 26 aprile rispetto alle previsioni precedenti. Ci sono diversi cambiamenti col sistema di colorazioni e anche maggiori allentamenti delle restrizioni, oltre alle diverse date sulle riaperture anche di palestre, teatri, cinema e piscine. Tutto questo perché la morsa della pandemia sta allentando un po' la presa, lo dimostrano i dati anche nel ferrarese che sentiamo ora. Più tamponi e meno contagi scovati tra la popolazione ferrarese, questo emerge dal bollettino di venerdì dove sono stati comunicati purtroppo altri due decessi per complicazioni attribuibili al virus, una donna di 57 anni e un uomo di 78 anni, 40 le vittime nel resto della regione. Intanto, rispetto al bollettino precedente, nel ferrarese, come detto, sono stati trovati meno nuovi casi, 87, su più tamponi, 499, in calo però i nuovi guariti, 108. Cala, in questo caso è un bene, la pressione sugli ospedali covid ferreresi, cresciute e anche le vaccinazioni giornaliere in territorio estense rispetto al giorno precedente, più di 2.000 che fanno salire le vaccinazioni totali, a circa 110.000, quasi 34.000 i ferraresi immunizzati. L'aggiornamento dell'epidemia in Emilia-Romagna registra 1.275 nuovi positivi e più di 2.360 nuovi guariti in calo i ricoveri negli ospedali. Comacchio avrà il proprio centro vaccinale, ad annunciarlo su Facebook, è stato il sindaco Pierluigi Negri ed è emerso durante l'ultima conferenza sociosanitaria territoriale. Da tempo se ne discuteva, non senza polemiche politiche, è anche appunto in sede di conferenza sociosanitaria, ma alla fine il risultato è arrivato. Quindi il centro sarà situato al palazzetto dello sport di Comacchio, del villaggio Raibosola, dove verranno trasferiti anche i punti vaccinali attualmente a casa della salute San Camillo. Il comune nel corso dei mesi aveva proposto altre sedie all'azienda USL, ma non erano state ritenute idonee per accogliere un centro vaccinale, come quelle ad esempio di Codigoro, Argenta e Cento, ora però è stato trovato appunto il centro al villaggio per poter vaccinare anche a Comacchio nelle maniere che vi abbiamo mostrato in questi mesi. Cambiamo argomento, ma parliamo in questo caso di AstraZeneca, del vaccino AstraZeneca, perché è stato denominato VIT ed è un acronimo inglese per definire la complicazione grave e rarissima che sia EMA e AIFA hanno ammesso poter avere un legame causale con il vaccino AstraZeneca, appunto raccomandando che il vaccino sia riservato soggetti di età superiore a 60 anni. La situazione rimane ancora confusa e la buona notizia però è che esiste una terapia per curarla quando diagnosticata precocemente. Sentiamo. Nel bel mezzo della campagna vaccinale in Italia e in tutta Europa, con vaccini di nuova generazione a RNA come Pfizer e Moderna o vetture adenovirale come AstraZeneca, le notizie di alcuni casi rari ma molto gravi, soprattutto di donne di età compresa tra i 20 e i 55 anni, che dopo la vaccinazione con AstraZeneca hanno sviluppato patologie gravi, e cioè un quadro clinico complesso, caratterizzato da diminuzione delle piestrine e trombosi venose in vari siti, compreso il cervello, hanno creato una diffidenza diffusa nei confronti di AstraZeneca, nonostante le rassicurazioni date nelle settimane scorse dall'agenzia europea EMA e italiana AIFA. Sul tema, due studi appena pubblicati sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine aiutano a fare chiarezza, anche grazie all'intervento, su carriera della sera, del gruppo Scienziate per la Società, le quali scrivono. Gli studi hanno caratterizzato le complicazioni in 11 soggetti tedeschi austrieci e 5 norvegesi, prevalentemente donne. I dati dimostrano che i sintomi aggiungono difficoltà respiratoria, dolore al petto, forte mal di testa, dolore addominale persistente, visto fuscata, vertigini, comparsa spontanea di lividi, compaiono da 5-20 giorni dopo la vaccinazione, e correlano con la produzione di anticorpi contro un normale componente del nostro organismo. Questa sindrome, che sulla base di alcune importanti caratteristiche della probabile associazione col vaccino è stata denominata trombocitopenia trombotica immune indotta da vaccino, acronimo BIT, è una sindrome nuova, è stata riportata in diversi paesi europei e sia l'EMA che l'AIFA ne hanno suggerito il possibile legame causale con il vaccino AstraZeneca, raccomandando che questo vaccino sia riservato a soggetti di età superiore ai 60 anni sulla base di un calcolo accurato fra rischi e benefici. Una situazione ancora confusa da approfondire. Ma la buona notizia è che esiste una terapia per curare questa sindrome quando è diagnosticata precocemente e questo è avvenuto grazie al gruppo di esperti in coagulazione diretto dalla professoressa Rossella Marcucci dell'Università di Firenze. Ora è necessario che gli ospedali ricevano indicazioni precise su come riconoscere e trattare questa sindrome e che i medici vaccinatori siano allertati ed informati per incoraggiare i soggetti vaccinati a chiedere assistenza medica se dovessero insorgere i sintomi caratteristici. Nel Ferrarese è sceso a 0,81 l'indice RT e lo scenario della pressione sulla rete ospedaliere ancora a livello 4 pur con una tendenza a calo dei ricoveri come abbiamo visto e sono questi alcuni dati emersi dalla videoconferenza del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza presieduta dal prefetto Michele Campanaro, prefetto che si è infine soffermato sul monitoraggio delle misure del contenimento del contagio rimarcando il dato ancora elevato delle sanzioni amministrative applicate dalle forze di polizia sul totale dei controlli effettuati 179 le violazioni contestate nei primi 15 giorni di aprile su 5.530 persone controllate la percentuale delle multe è quindi del 3,24% nel Ferrarese. Parliamo ancora di forze dell'Ordine ma anche di politica ma non solo perché dopo mesi l'armamento della polizia locale di Ferrara torna a essere al centro del dibattito cittadino ma a questa volta non sono le opposizioni a intervenire ma a CGL che da tempo chiederebbe all'amministrazione e al comando del corpo alcune delucidazioni sulla formazione degli agenti e il sindacato in questo riscontrerebbe delle criticità quali le sentiamo nell'intervista al funzionario della CGL. La questione non è tanto armamento sì o armamento no perché quello non è un tema di natura sindacale ma è un tema dichiaratamente politico e il Consiglio Comunale ha approvato l'armamento del corpo di polizia locale noi stiamo chiedendo da più o meno due anni di avere regole chiare e certe rispetto a questo percorso. Apprendiamo dagli organi di stampa che siamo vicini a questo momento all'armamento appunto e noi abbiamo continuato a chiedere l'ultima richiesta è del 18 febbraio del 2021 quando chiedevamo spiegazioni rispetto al percorso formativo preventivo all'armamento stesso perché riteniamo che dotare 150 persone di una pistola sia importante che questo percorso appunto venga fatto preventivamente verificando le condizioni di salute del personale che verrà armato e anche il corretto utilizzo dello strumento stesso. A queste richieste noi non abbiamo ancora avuto una spiegazione formale perché l'armamento per come ad oggi è stato a noi presentato prevede o ha previsto ad oggi una formazione tramite un powerpoint e una autodichiarazione di lavoratrici e lavoratori nella quale essi stessi dichiaravano di non utilizzare psicofarmaci e di non abusare di alcol. Ci sembrano un percorso che non sia completo e non sia definito. In più c'è un tema che l'amministrazione non ha ancora ritenuto di voler affrontare che è quello dell'obiezione di coscienza sia per quello che riguarda l'obiezione di coscienza degli agenti di sesso maschile ma soprattutto un tema che non hanno affrontato dal nostro punto di vista è quello dell'obiezione di coscienza del genere femminile. Ricordiamo che quando il militare era obbligatorio era obbligatorio solo per gli uomini perché erano gli unici che potevano formalmente obiettare. Le donne non hanno mai potuto fare questo percorso e oggi il corpo di polizia locale del comune di Ferrara che ha gran parte di componenti di genere femminile non ha avuto modo di esprimere completamente il proprio orientamento ed è per questo che abbiamo inviato tramite uno studio legale una diffida al comune nel continuare questo percorso. Speriamo che questo ci porti ad avere una discussione seria, una discussione franca e che porti tutto il personale a lavorare in sicurezza. Come anticipato è attesa per domenica la visita a Ferrara del ministro del turismo Massimo Garavaglia domenica prossima in serata attorno alle 18.30 Garavaglia sarà accolto dal sindaco Alan Fabri grazie al ministro per la grande disponibilità manifestata dice il primo cittadino col quale il ministro dovrebbe affrontare anche il tema del rilancio del turismo nelle città d'arte come Ferrara e altre ovviamente saranno le discussioni in atto. Ma ora torniamo a parlare del caso del petrochimico perché continua a essere al centro della politica estense la senatrice Boldrini incalza il governo per cercare una soluzione mentre il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Tommaso Mantovani propone una riconversione green. Sentiamo. La preoccupazione relativa al petrolchimico e ai numerosi occupati del ferrarese con la chiusura del cracking di Porto Marghera continua a coinvolgere il mondo politico. La senatrice PD Paola Boldrini incalza il ministro Giorgetti titolare del Mise ed il collega della transizione ecologica Roberto Cingolani a portare avanti azioni formali senza perdere ulteriore tempo per dare risposte a chi è preoccupato di perdere il lavoro. Dal Movimento 5 Stelle il consigliere comunale Tommaso Mantovani propone una riconversione di cui si era già parlato in passato. Noi facciamo un appello che si cominci davvero una conversione al green. È dal 2010 che è una tavola, un tavolo tecnico organizzato da un giornale locale ci trovammo e già allora l'ingegnere direttore dell'IFM, il centro servizi del petrolchimico ci disse che Anypower progressivamente stava dismettendo sempre più la chimica di base per investire nel settore energetico dove aveva molti più guadagni rispetto alla chimica pesante. E allora io mi chiedo non possiamo continuare ad aspettare da lontano che sia lo Stato che interviene che sapete che Any ha come partecipe il Ministero e quindi investimenti statali non possiamo continuare ad aspettare che ci arrivi dall'alto la ghigliottina da un momento magari inaspettato come adesso della primavera del 2022. Per cui tanti progetti che Any e Versalis hanno iniziato in altre aree non vediamo perché non debbano essere utilizzati e intrapresi anche a Ferrara. Cambiamo argomento. Nonostante più di 50 anni di politiche per l'uguaglianza di genere nei diversi Stati dell'Unione Europea, il rapporto 2021 dell'Istituto Europeo per l'uguaglianza di genere mostra come le disparità risultino ancora rilevanti nel nostro Paese dove i miglioramenti raggiunti lentamente nella rappresentanza politica siano ad uno stallo e come al crescere della rappresentanza femminile nelle istituzioni non corrisponda alla qualità degli incarichi ricoperti dalle donne. Promuovere la parità tra i sessi e combattere le discriminazioni di genere è questo l'obiettivo dell'Istituto Europeo per l'uguaglianza di genere con sede a Vinius, istituito dal Consiglio dell'Unione Europea nel 2006. Legge, che controlla il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti in occasione della Conferenza Mondiale sulle Donne tenutasi a Pechino nel 1995 nel dossier del 1 marzo 2021 ha assegnato all'Italia un punteggio di 63,5 punti su 100 nell'indice sull'uguaglianza di genere 2020, inferiore alla media dell'Unione Europea di 4,4 punti. Nonostante i miglioramenti realizzati, l'Italia infatti ha migliorato di 12 posizioni la sua graduatoria dal 2005, raggiungendo il 14esimo posto tra i 27 Stati membri. Tuttavia, dal 2017 non sta facendo progressi di rilievo nei settori considerati del lavoro, denaro, conoscenza, tempo libero, potere e salute. I punteggi dell'Italia sono inferiori a quelli dell'Unione in tutti i settori, ad eccezione di quello della salute. Ha disuguaglianze più marcate nel settore del potere, del tempo libero, della conoscenza. Il punteggio più basso di tutti gli Stati membri, tuttavia, è nel settore del lavoro. Una situazione difficile, confermata dal World Economic Forum sullo Global Gender Gap nella graduatoria della disparità di genere esistente nel campo della politica, dell'economia, dell'istruzione e della salute diffusa nel 2020, in cui l'Italia si colloca al 76esimo posto su 153 Paesi, solo un punto più su del posizionamento del 2006. Nella politica, comunque, saltano agli occhi i progressi fatti dal nostro Paese negli ultimi vent'anni, grazie all'introduzione di leggi apposite relative alle cosiddette quote paritarie nelle liste elettorali. Ma restiamo ancora lontani da un'effettiva parità e rispetto all'Europa, che conta tra i capi di Stato, nove primi ministri, quattro ministri degli esteri, sette titolari di un ministero economico, in Italia non registriamo né un capo di Stato, né un primo ministro, né un ministro economico. I ministeri pesanti sono rimasti saldamente in mano maschile. Al contrario, la delega alle pari opportunità è sempre stata assegnata a una donna, un ministero senza portafoglio. A 24 incarichi ministeriali ricoperti soltanto da donne, corrispondono 241 ministeri attribuiti soltanto agli uomini. L'Italia ha avuto la prima donna ministro nel 1976, Tina Anselmi. 45 anni dopo, nel governo Draghi, il 34,78% dei ministri sono donne, cioè otto ministri su 23 ministeri. La composizione di genere resta quindi squilibrata, anche se, a dire il vero, è migliorata rispetto al passato, dove, peraltro, solo il governo Renzi, all'inizio della sua esperienza, aveva il 50% di ministri donne. Eppure, qualcosa oggi si muove. Per la prima volta nella nostra storia, per due legislature consecutive, un ramo del Parlamento è guidato da una donna, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è la prima donna a guidare il Senato, mentre Laura Boldrini è stata presidente della Camera nel quinquennio precedente. Non ci resta dunque che sperare nell'assemblea e nelle giunte locale, dove i numeri delle donne elette e in giunta sono decisamente più alti, ma anche lì spesso non come presidenti di regione e sindache, né negli incarichi di maggior peso. Come dire che ad una più visibile presenza di donne nelle giunte degli enti locali, che arriva al 44% nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non corrisponde il ruolo dell'assessore, cui vengono assegnate in prevalenza deleghe di minore peso politico rispetto a quelle assegnate agli uomini. Ha preso il via questa mattina la quarta edizione del Weekend della Pace, iniziativa voluta dai Lions di Ferrara e di Santa Maria Maddalena insieme ai Leo Club. Tra i temi affrontati nella prima giornata, quella del futuro del nostro ambiente, le prospettive dei giovani a Ferrara, domani si parlerà di vincere la pace come sfida del futuro. E domenica 18, infine, si terranno le iniziative del Lions Day e gli eventi sono disponibili sulla pagina Facebook Weekend della Pace. Prima di lasciarci, questa sera su Telestense, alle ore 20, appuntamento con Bonifica Oggi, e torna sempre questa sera alle 20.30, sempre appunto su Telestense. Con questo è tutto, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.